Come possiamo dire di questa città? Come ti stai trovando? A livello personale, oltre che lavorativo? Mi trovo molto bene, mi trovo molto bene perché ha tutte quelle caratteristiche importanti per vivere in serenità con tutto quello che richiede una città anche importante, con una cultura, una vita di ogni genere, dal basso livello all'alto livello, ai ristoranti, al cinema, ai teatri, a tutto quello che può richiedere senza l'affollamento esagerato delle grandi città ormai che ci rappresentano, da Roma, a Milano, diciamo che i turisti dopo un po' tendono a riempire le città, mentre invece qua a Torino ancora riesce ad apprezzare una Torino non troppo affollata.